Come va? Buongiorno, signora. Come sta? Bene, grazie. E lei? Ciao, Maria. Come stai? Sto proprio male. Mi dispiace. Buongiorno, signora Conti. Come va? Buongiorno, signora. Sto benissimo, grazie. Ciao, Gianni. Come va? Non c'è male. Quindi, quando vogliamo chiedere a qualcuno come sta? Diciamo Come sta? Stai. Come va? Vai. Le risposte possibili sono Sto benissimo, sto bene. Non c'è male. Sto proprio male. Sto benissimo, sto bene. Non c'è male. Sto proprio male. Per chiedere a qualcuno come sta? O per rispondere come stiamo, usiamo il verbo stare. Io sto, tu stai, lui e lei sta.